Da quando ho iniziato questa big esperienza su YouTube la mia mission principale è stata sempre quella di eliminare la confusione in tutte quelle che erano le materie che io andavo a trattare, i video che andavo a trattare, soprattutto la questione legata al trading dei mercati e le cripto di Bitcoin e la questione legata a come si doveva lavorare per essere insomma più protetti, diciamo così in questo ambito. Ancora una volta facciamo questo martedì domani ore 18 con il super webinar dell'analisi ciclica ragazzi è un webinar completamente free dove ho deciso di parlare un po' di che cos'è l'analisi ciclica, come bisogna utilizzarla nella trading dei mercati delle criptovalute senza tutte quelle che sono i nodi complessi senza quelle questioni legate a tutta la complessità. Di questa materia la mettiamo da parte la complessità ragioniamo solo da un punto di vista basic solo da un punto di vista concettuale a cosa serve veramente facciamo un poco su ragazzi prendete una lente di ingrandimento la mettete su un puntino lo andiamo a ingrandire cerchiamo di capire l'essenza un po' di questa splendida super meravigliosa tipologia di analisi spesso molte volte anzi in compresa e cerchiamo di capire come deve essere utilizzata come ovviamente deve essere utilizzata per essere facilmente applicabile non indurvi in tanti errori e questo è un valore aggiunto quindi ho deciso di fare questo webinar proprio nell'ottica di eliminare questa confusione che ancora una volta c'è sempre un po' ragazzi in tutte quelle che sono le materie del trading. Registratemi gratuitamente per domani ore 18 solo gli utenti registrati avranno accesso a questo webinar un webinar basic ragazzi quindi tutti possono farlo non vi aspettate tecniche miracolose cose che vi fanno scoprire la pietra filosofale e magicamente far uscire gli alberi con i bitcoin appesi non è niente di ciò sapete che non facciamo mai niente di ciò io da sempre mi sono spremuto le meningi per evitare questi problemi sul mondo e sulla community cripto italiana e così sarà fatto ancora una volta ma parliamo di ciclica come funziona eliminiamo tutte quelle che sono le confusioni vi darà un plus anche per saper leggere saper analizzare quelli che sono i miei video che faccio ogni giorno quindi sarà utile un po' per tutti cercherò vi assicuro di essere più besti che possibili ma se siete li presenti potrete anche farmi delle domande va bene poi ci sarà la super sorpresa con i nuovi corsi che saranno riaperte nuove offerte le offerte di primavera sono stra contento di questa cosa perché stiamo un po' insieme facciamo una cosa iper iper formativa ma andiamo a guardare qual è la questione invece della settimana dove siamo in questo momento con i mercati delle credito bitcoin non inizia bene la settimana sta un po' affondando proprio in questo momento perché la candelina del daily sta iniziando a cincischiare questa è una la candela della settimana ma è uguale quella è un daily visto che oggi è lunedì ed è insomma un po' rossastra diciamo in questo modo ci sono poi altre cose che bisogna andare a vedere per esempio quali sono le aree di supporto per questa settimana di bitcoin area di domanda dove potrebbero ritornare un po' gli acquisti perché c'è una fase di riposo corretta ragazzi ciclicamente corretta la vediamo anche oggi magari dopo il webinar di domani riuscirete a capire meglio questi miei ragionamenti c'è un super grafico che mi piace mi piacerà mostrarvi alla fine del video che è quello del balance on exchange dei bitcoin che sono fuori usciti non mi interessa valutarlo nel senso di dirvi ah ragazzi sono usciti i bitcoin lo sappiamo già mi interessa farvi vedere come si è posizionato in versione stabile dall'inizio della fase di ripresa cerchiamo delle congruenze su questo concetto ma prima di ogni cosa andiamo a vedere anche i dati in questa settimana il giorno clou ce n'è uno che è super clou e poi vi faccio vedere una picca sempre sulla questione dati macro pad e quant'altro e io non me ne vado avanti se prima non vi registrate al canale se ancora non l'avete fatto e se vi registrate al canale bitcoin pampa per tutto l'anno intanto io lancio la moneta e vediamo che cosa succede non so se notate ragazzi come c'è proprio la mia destrezza in lancio la moneta non ve lo dico perché non è uscito un buona news questa settimana allora lancio la moneta non è andato bene questa settimana e secondo me c'ha anche ragione un pochino perché probabilmente in questa settimana ci sarà un po' da ragionare in ottica diversa allora intanto andiamo a vedere analisi ciclica di bitcoin sul ciclo mensile quello ovviamente che seguiamo con una lunghezza temporale che ci fa essere un po' più di medio periodo diciamo così anche se non è proprio medio allora la struttura del ciclo mensile iniziata il 10 marzo è nella sua metà ora la struttura di metà mensile che non ha una fase di minimo al centro solitamente ragazzi si configura come un ciclo di natura ternaria questi sono i ragionamenti che appunto anche domani magari andiamo a fare nel webinar però in questa particolare grafico è un grafico a montagna quindi non ci dà la possibilità di vedere se effettivamente il mercato ha creato un minimo qui che non riusciamo proprio a vedere lo sta facendo in questo momento si definiscono grafici a montagna cioè in sostanza non abbiamo una reale informazione ciclica se questo è un ciclo ternario binario o meno abbiamo un'informazione invece dall'analisi tecnica più interessante secondo me cioè il fatto che il mercato per esempio qui andandolo a guardare in close ha fatto una struttura di 27 e 3 circa su prezzi di Bitfinex e che quindi magari un pricing in close al di sotto di questo livello di 27 e 3 sancirebbe una minimo teorico in chiusura appunto che potrebbe essere considerato poi come la metà di questo ciclo mensile per fare appunto la cosiddetta M al di là di questa questione meramente ciclica che appunto come vi dicevo in questo contesto in questo determinato momento non ci dà informazioni su dove siamo ci dice solo una cosa e ve la dico subito cioè che questo mensile potrebbe ancora tentare di fare nuovi massimi in questa zona qui cioè verso i primi di aprile ma non è così chiaro perché ragazzi perché in realtà questo app qui potrebbe anche essere sufficiente per un ciclo mensile a montagna chiamiamolo così cioè che fa proprio questo tipo di logica quindi fa un app qui e poi se ne va a chiudere proprio il mensile entro la prima decade di aprile questo chiude il 9 in barra di congestione laterale ribassista ecco perché questa fase della settimana in questione non è una fase molto bullish almeno non nei primi giorni fino a mercoledì a mercoledì poi ne parliamo perché può essere diversa quindi potremmo essere in fase appunto di laterale ribassista oggi e domani sul mercoledì potremmo avere uno snodo per una questione di cicli inferiori ma dove potrebbe andare a pescare liquidità il mercato quindi quali sono quelle aree di supporto che noi possiamo individuare e intanto la più evidente la più scontata la più banale la più proprio cioè che chiunque anche con zero formazione del trading andrebbe a vedere che è l'aria tra 25 e 9 quindi 26.000 e 25.000 e 3 questa è la zona di pullback della precedente super mega galattica aria di resistenza che era stata insomma durissima da battere quella da agosto praticamente distrutta da questa candela di qualche giorno fa questa aria secondo me se verrà toccata in pullback non sarà mantenuta proprio al touch perché io penso sempre ragazzi che i mercati siano un po' più furbi no? degli analisti e quindi quando arriva se arriva a un livello di quel tipo ci arriva anche per scendere un pochino di più e magari tentare di fare qualche stop all'interno di questa zona e quindi scendere addirittura tra i 24 e i 20 26.000 questa cosa qui io spero di non vederla proprio ve lo dico sarebbe un super buy the dip per chi non è entrato è troppo scontato se il mercato arriva velocemente in quest'area mi preoccuperei e mi preoccuperò ve lo dico perché secondo me un buy the dip così semplice per chi non è salito sul carro è troppo facile sicuramente i mercati crypto nell'ultimo anno di bear market hanno subito una fuoriuscita di retail molto forte e questo migliora la stabilità del mercato lo rende necessariamente meno macchinoso quindi potrebbe essere anche in effetti così scontata proprio la figurazione un po' bancomat però io un po' l'occhio clinico e il chi va là me la pulce nell'orecchio la verò se il mercato arriva qui in questa zona questa è sicuramente un'area di buy una zona che invece potrebbe essere più normale che il mercato potrebbe magari tentare di arrivarci e questa qui 26.000 e 4 26.500 il mercato potrebbe in effetti tentare di breccare il minimo di 26.000 e 6 e 88 prezzi sempre bit stamp in questo caso che ha fatto il giorno 23 e poi qui potrebbe riprendersi insomma ecco quindi io da questa zona qui potrebbe essere una fase di supporto proprio per il mercato detto questo faccio vedere adesso quelli che sono i dati della settimana di cui vi ho accennato prima cioè i dati relativi ai dati di natura macroeconomica che affronteremo questa settimana già nella giornata di domani ci sarà il discorso della lagarda ma in sostanza ve la insomma tiro breve questa volta e il giorno clou è giovedì 30 marzo con il PIL degli Stati Uniti molto importante previsto in calo, leggero calo, cioè in calo rispetto al precedente ma comunque fortemente positivo e le richieste di sussidi di disoccupazioni previste stabili sostanzialmente, leggero aumento ma irrilevante l'aumento poi però c'è venerdì un dato che è molto importante per l'Europa perché è il primo dato rilevante relativo all'inflazione annuale che dovrebbe iniziare a mostrare gli effetti della politica monetaria restrittiva messa in atto dalla Banca Centrale Europea con un tasso di inflazione annuo, su base annua in diminuzione, in forte diminuzione di 1.4 quindi al 7.1 ridotto dall'8.5 del mese precedente vediamo se questo dato sarà confermato, secondo me PIL e richieste di sussidi di disoccupazione potranno un po' creare della volatilità ma neanche più di tanto l'IPC invece dell'Europa non creerà molta volatilità ma sarà molto importante per l'Europa vedere se effettivamente questo dato è in linea, cioè se gli effetti della politica restrittiva della BCE iniziano a sentirsi perché altrimenti che stiamo facendo qui no? anche per l'Europa, quindi sicuramente un dato più alto di quello che è il previsto il mercato non lo prenderà bene vi faccio anche vedere un altro dato sul tasso di inflazione e sulla questione tassi della Fed che è interessantissima, nel prossimo FONC che è previsto per il 3 maggio che verrà l'attuale fase che pensano gli investitori istituzionali relativa al rialzo meno dei tassi della Fed è un po' in bilico perché aspetteranno probabilmente alcuni dati del mese ma in questo momento, in questa fase, a circa 37 giorni di distanza dal prossimo la prossima conferenza dove Powell dovrebbe teoricamente rialzare i tassi abbiamo per la prima volta un 61% di probabilità che i tassi restino stabili e invece il 40% che continuino ad alzarsi io sono ancora dell'idea che Powell alzerà i tassi però questa è una tabella che vi fa capire un po' quello che pensa il mercato istituzionale il sentimento istituzionale che in questo momento è in bilico perché in effetti ragazzi maggio, aprile, già da ottobre scorso era il punto di arrivo del rialzo dei tassi rialzo dei tassi della Fed che doveva arrivare tra il 5 e il 5,50 e siamo esattamente lì perché noi qui in questo momento siamo al 5 e con questo rialzo andremo al 5,25 in pratica ci siamo ragazzi siamo arrivati dove dovevamo arrivare tempo fa quindi questa è una tabella importante perché a questo punto tutta la nostra attenzione sarà solo e unicamente indirizzata al tasso di inflazione perché i tassi di interesse sono molto alti il tasso di inflazione deve scendere da adesso in poi e riposizionarsi al target ideale per la banca centrale europea, per la banca centrale americana, per la Federal Reserve se non lo fa iniziano i problemi quindi da qui in poi tutto è andato a genio diciamo così poi fatto questo ragionamento secondo me i mercati secondo semestre 2023 continueranno a spostarsi sulla variabile recessione perché nel primo semestre si pensava potesse essere una variabile che giocava la partita ma in realtà è stata una variabile inutile perché il mercato non l'ha neanche vista la recessione quindi poi ci sposteremo intanto questo è un primo dato anticipatorio molto interessante parliamo a questo punto della questione sempre cripto con un altro grafico che mi piaceva farvi vedere un po' più di lungo periodo e poi un grafico che si sviluppa invece nell'ambito di più intraday allora questo è un grafico di lungo periodo per vedere anche dove siamo con il nuovo ciclo annuale quindi questo lo andiamo a scrivere insieme come testo ciclo annuale BTC anche perché adesso o con il webinar di domani ragazzi riusciremo magari a capire anche un po' di più queste terminologie quindi io inizio un po' a buttarle lì in maniera costante mi raccomando ragazzi domani non mancate link in descrizione webinar gratuito vi aspetto numerosi così facciamo una bella lezione più siete tra le altre cose più mi date grinta anche nel fare contenuti di un certo tipo questo ciclo annuale è appena iniziato quindi è nella sua fase proprio bullish della curva però non è che è proprio fresco fresco nel senso non è che è iniziato da pochi giorni perché in realtà comunque noi abbiamo necessitato di tanti giorni per la conferma dell'avvenuto inizio del ciclo annuale anche se qui più o meno dopo questo rialzo già ne avevamo parlato ampiamente che poteva essere effettivamente iniziato a novembre ma stiamo a 126 giorni considerando questa settimana completata la metà di un normale ciclo annuale di bitcoin sta tra i 180-200 giorni a salire un po' insomma massimo 220 diciamo così quindi siamo nella prima metà ora l'unica ragionamento che noi possiamo fare per capire se questo mercato possa continuare a salire e dare vera soddisfazione nell'anno è solo e unicamente che il massimo di questa struttura ciclica perché ogni struttura ciclica è un massimo ok ragazzi allora nella prima parte qui e poi è crollato noi in questo caso per esempio per continuare questa fase al rialzo dovremmo avere un massimo che si va a sviluppare nella seconda parte del ciclo allora di questa cosa ne parliamo anche domani così vi faccio capire meglio perché se sviluppiamo un massimo nella seconda parte siamo un po' più tranquilli che questo ciclo sia magari bello rialzista va bene quindi un'app totalmente unidirezionale teoricamente prima di giugno-luio non sarebbe neanche così tanto bello perciò io penso che il mercato in questa fase ragazzi debba magari possa ancora tentare un breakout di questo nuovo livello e posizionarsi qui in mezzo ma da qui in poi io credo e anzi spero che fino a luglio poi non si muova più ve lo dico in maniera molto schietta e sincera perché era importante realizzare questa cosa un po' insieme vi faccio vedere invece poi la questione del trading più intraday perché questa settimana può essere interessante giocarsela proprio con le caratteristiche del trading intraday in quanto alcuni livelli potrebbero essere interessanti come barra di congestione ok eccoci qui trading intraday veloce analizziamo subito quelli che sono i dati e poi chiudiamo il video ragazzi una barra di congestione si sta sviluppando dopo queste due ore una e due che si sono andate a creare il 22 di marzo quindi questa zona e questa zona il mercato ha creato una barra di congestione dei livelli chiave ciò significa che siccome c'è da poco tempo si potrebbero anche attuare questa settimana delle strategie di reverse cioè di buy the dip e short the up in barra di congestione sono delle strategie di trading interessanti che solo in alcune situazioni possono portare dei profitti discreti per esempio quando il mercato va a creare un ping pong su e giù in una fascia di prezzo di questo tipo questa settimana secondo me potrebbe essere interessante se infatti il mercato dovesse avvicinarsi proprio in questa zona aspettare io sempre aspetterò un'inversione ragazzi di trend come spiego nel mio corso per esempio le inversioni di trend le aspetto poi su time frame più brevi in modo tale da gestirmi velocità operativa eccetera perché ci sono delle tecniche che possono utilizzare doppi time frame uno per le analisi uno a livello operativo ed è molto utile fare così quindi anche in questo contesto per esempio vi aspetterò un'eventuale poi variazione di trend sulla time frame inferiore a quello orario di solito uso un 15 minuti in questo caso per il trading proprio di qualche giorno questo è trading puro e dopodiché potrebbe essere interessante magari infilarsi qui in mezzo se dovesse avvenire proprio un touch di questa zona se invece al touch di questa zona il mercato continuerà a scendere ovviamente io non entrerò mai perché sono trend follower e quindi non vado mai a comprare a prescindere mentre crolla un mercato questo ve lo dico perché è la cosa peggiore che potete fare soprattutto se non sapete cosa state facendo va bene detto questo due livelli rilevanti quindi 26 e 5 e anche up per chi magari vuole essere un tentatore di shorti uno short my bitcoin 29k uno short bitcoin per filosofia e religione ragazzi ve lo dico è una questione di investimento shortiamo le crypto che fatto quelle non c'è problema va bene detto questo fatemi sapere cosa state facendo noi ci vediamo domani alle ore 18 per il super webinar di segreti di analisi ciclica che il team di marketing ha preso probabilmente dall'ultimo film di ripotteri segreti di silente ma comunque bellissima questa dicitura mi piace veramente tanto li sveliamo domani vi aspetto alle ore 18 non mancate anche con tante domande ciao ragazzi ciao